Ciao a tutti, sono Rivoluzione Beccez. Sono felice di annunciarvi che il gioco è finalmente uscito e disponibile al download. Per scaricare il gioco ti basta semplicemente raggiungere la mia chat di Twitch e scrivere il comando punto esclamativo hardstack. Una volta inviato il messaggio ti arriverà nei DM di Twitch il link per scaricare il gioco. Per attivare questo comando però devi essere abbonato al canale Twitch di Kirenis. Se non sei ancora abbonato dovresti farlo. Ha davvero bisogno del tuo supporto. In Arsak Souls sei un prescelto non classificato pronto a scalare tutte le leghe del gioco. Durante il tuo viaggio incontrerai un sacco di streamer che probabilmente già conosci o che magari conoscerai per la prima volta. Gioca pure nel modo che preferisci. Puoi semplicemente goderti la fantastica storia che ha da offrire. Oppure puoi provare a completarlo al 100%. Ad esempio c'è il Monstridex dove puoi raccogliere le informazioni dei nemici che sconfiggi. Oppure nella fase finale del gioco puoi sconfiggere tutti i boss secondari e se dovessi farlo sbloccherai addirittura un finale extra. Quindi iscriviti al canale di Kirenis e scarica pure Arsak Souls. Il gioco è stato appena rilasciato. E rilasciato.